Dolore incommensurabile, scherzo, bravo non si è neanche sentito. Dottor Rigoli, perché vaccinarsi? Perché è l'unica sistema per uscirne da questa pandemia. Anche uno dei volti più conosciuti della guerra del coronavirus ha voluto metterci la faccia vaccinandosi questa mattina al caffoncello con tutto il personale sanitario dell'ospedale trevigiano. È proprio una forma di rispetto sociale. Perché possiamo salvare l'intera comunità. Altissima l'adesione attraverso un sistema di prenotazione informatica. È permesso in due giorni di raccogliere 2300 adesioni. Ieri, oggi e anche domani ci sarà il caffoncello e poi anche l'ospedale di Vittorio Veneto, con l'ospedale Covid, quindi domani, e l'ospedale di Montebelluna. Mentre mercoledì prossimo è prevista la vaccinazione per il personale di Odezzo, Castelfanco e Conegliano. A quelli che dicono che questo vaccino è stato troppo poco, diciamo così, sperimentato, cosa si risponde? Si risponde con un articolo del New England Journal of Medicine che ci dice che ha passato la fase 3 con 40.000 pazienti testati, con un'efficacia del 95%. Una risposta a questo contagio che ha riportato in prima linea anche tanti medici in pensione, questa mattina in fila come tutti gli altri per la vaccinazione. Perché vaccinarsi? Perché è un criterio di sicurezza personale e sociale, è un dovere assoluto. E le persone che hanno ancora dei dubbi su questo vaccino cosa dire? Bisogna spiegare in termini adeguati di cosa si tratta. Questo vaccino è un capolavoro dell'ingegno umano.